i prezzi delle bambine e dei ragazzi da qualche giorno erano caduti e continuavano a ribassare mentre i prezzi dello zucchero dell'olio della farina della carne e del pane erano saliti e continuavano ad aumentare il prezzo della carne umana calava di giorno in giorno una ragazza fra i 20 e i 25 anni che una settimana prima valeva fino a 10 dollari ormai valeva appena 4 dollari ossa comprese la ragione di una tal caduta di prezzo della carne umana sul mercato napoletano dipendeva forse dal fatto che a Napoli accorrevano donne da tutte le parti dell'Italia meridionale durante le ultime settimane i grossisti avevano buttato sul mercato una forte partita di donne siciliane non era tutta carne fresca ma gli speculatori sapevano che i soldati negri sono di gusti raffinati e preferiscono la carne non troppo fresca e perfino i negri preferirono per rifiutarla ai negri non piacciono le donne bianche troppo nere dalle Calabrie, dalle Puglie, dalla Basilicata, dal Molise giungevano ogni giorno a Napoli su carretti trainati da poveri asinelli su autocarri alleati e la maggior parte a piedi schiere di ragazze sode e robuste quasi tutte cittadine attirate dal miraggio dell'oro e così i prezzi della carne umana sul mercato napoletano erano venuti precipitando e si temeva che ciò potesse aver conseguenze gravi per tutta l'economia della città non si erano mai viste simili cose a Napoli era una vergogna, certo, una vergogna di cui la grandissima parte del buon popolo napoletano arrossiva ma perché le autorità alleate, che erano le padrone di Napoli, non arrossivano? in compenso la carne di negro era salita di prezzo e questo fatto contribuiva per fortuna a ristabilire un certo equilibrio sul mercato «Quanto costa oggi la carne di negro?» domandava Jack «Shot up!» rispondeva Jack «È vero che la carne di un americano nero costa più di quella di un americano bianco?» «Tu magasce!» rispondeva Jack non avendo certo l'intenzione di offenderlo, di prenderlo in giro e nemmeno di mancare di rispetto all'esercito americano «The most lovely, the most kind, the most respectable army of the world» «Che cosa importava a me se la carne di un americano nero costava più di quella di un americano bianco?» «Io voglio bene agli americani, qualunque sia il colore della loro pelle» e l'ho provato cento volte durante la guerra «bianchi o neri hanno un'anima chiara, molto più chiara della nostra» «Voglio bene agli americani perché sono buoni cristiani, sinceramente cristiani» «Perché credono che Cristo stia sempre dalla parte di coloro che hanno ragione» «Perché credono che è una colpa aver torto ed è cosa immorale aver torto» «Perché credono che essi soli sono gallantuomini e che tutti i popoli d'Europa sono più o meno disonesti» «Perché credono che un popolo vinto è un popolo di colpevoli» «Che la sconfitta è una condanna morale, è un atto di giustizia divina» «Voglio bene agli americani per queste e per molte altre ragioni che non dico» «Il loro senso di umanità, la loro generosità, l'onesta e pura semplicità delle loro idee, dei loro sentimenti, la schiettezza dei loro modi» «Mi davano in quel terribile autunno del 1943, così pieno di umiliazioni e di lutti per il mio popolo, l'illusione che gli uomini odiano il male, la speranza di un'umanità migliore, la certezza che soltanto la bontà» «La bontà e le innocenze di quei magnifici ragazzi ed oltre l'Atlantico, sbarcati in Europa per punire i malvagi e premiare i buoni, avrebbe potuto riscattare dai loro peccati i popoli e gli individui» «Ma fra tutti i miei amici americani, il colonnello di Stato Maggiore, Jack Hamilton, era il più caro» «Jack era un uomo di 38 anni, alto, magro, pallido, elegante, di modi signorili, quasi europei. Sulle prime forse appariva più europeo che americano, ma non per questa ragione io gli volevo bene. Io gli volevo bene come a un fratello, perché a poco a poco, conoscendolo intimamente, la sua natura americana si rivelava profonda e decisiva. «Era nato nella Carolina del Sud. Ho avuto per Valia, diceva Jack, un enegres per un de monseque, ma non era soltanto quel che in America si intende per uomo del Sud. Era uno spirito colto, raffinato e al tempo stesso di una semplicità e di una innocenza quasi puerili. Era, voglio dire, un americano nel senso più nobile della parola, uno tra gli uomini più degni di rispetto che io abbia mai incontrato nella vita. Era un Christian Gentleman. Quanto è difficile esprimere ciò che io voglio intendere per Christian Gentleman. Tutti coloro che conoscono e amano gli americani capiscono che cosa io voglio intendere quando dico che il popolo americano è un popolo cristiano e che Jack era un Christian Gentleman. Educato nella Woodbury Forest School e nell'Università di Virginia, Jack si era dedicato con uguale amore al latino, al greco e allo sport, ponendosi con ugual fiducia nelle mani di Orazio, di Vergilio, di Simonide e di Senofonte e in quelle dei masseur delle palestre universitarie. Era stato nel 1928 sprinter dell'American Olympic Track Team ad Amsterdam ed era più fiero delle sue vittorie olimpiche che dei suoi titoli accademici. Dopo il 1929 aveva trascorso alcuni anni a Parigi per conto dell'United Press ed era orgoglioso del suo francese quasi perfetto. «Ho imparato il francese dai classici», diceva Jack. «I miei maestri di francese sono stati la Fontaine e Madame Bonnet, la portinaia della casa dove abitavo in Rue Vaux-Girard». «Tu sei venuto in Europa», gli dicevo, «per imparare queste cose?». Jack conosceva bene anche ciò che egli chiamava la bambiaire de Paris, vale a dire l'Europa. Aveva percorso la Svizzera, il Belgio, la Germania, la Svezia, con quello spirito umanistico, con quella avidità di conoscenza, con cui gli undergraduates inglesi, prima della riforma del dottor Arnold, percorrevano l'Europa durante il loro gran tour estivo. Da quei suoi viaggi Jack era tornato in America con i manoscritti di un saggio sullo spirito della civiltà europea e di uno studio su Descartes, che gli avevano valso la nomina professore di letteratura in una grande università americana. Ma gli allori accademici non sono così verdi intorno alla fronte di un atleta come gli allori olimpici. Ma Jack non sapeva darsi pace che uno strappo muscolare al ginocchio non gli consentisse più di correre nelle gare internazionali per la bandiera stellata. Per tentare di dimenticare nella sua sventura, Jack si recava a leggere il suo diretto Virgilio e il suo caro senofonte nello spogliatoio della palestra della sua università. In quell'odore di gomma, di asciugamano bagnato, di sapone e di linoleum, che è l'odore caratteristico della cultura classica universitaria nei paesi anglosassoni. Una mattina a Napoli lo sorpresi nello spogliatoio a quell'ora deserto della palestra della peninsular base Sexion, intento a leggere Pindaro. Mi guardò e sorrise rossendo leggermente. Mi domandò se amavo la poesia di Pindaro. E aggiunse che nelle odi pindariche, in onore degli atleti vincitori ad Olimpia, non si sente la dura, la lunga fatica dell'allenamento, che in quei versi divini risuonano gli urli della folla e gli applausi trionfali. Non il rauco sibilo, non il rantolo che esce dalla bocca degli atleti nel terribile sforzo supremo. Io me ne intendo, disse. So che cosa sono gli ultimi venti metri. Pindaro non è un poeta moderno, è un poeta inglese dell'età vitoriana. Benché a tutti i poeti preferisse Orazio e Virgilio per la loro serenità malinconica, egli aveva per la poesia greca e per la Grecia antica una gratitudine non di scolaro, ma di figlio. Sapeva a memoria interi libri degli Iliade e gli venivano le lacrime agli occhi quando declamava in greco gli esametri dei giochi funebri in onore di patroclo. Un giorno, seduti sulla riva del Volturno, presso la Bae Libridge di Capua, in attesa che il sergente riguardi al ponte ci desse il segnale di transito, discutevamo di Winkelmann e del concetto di bellezza presso gli antichi elleni. Ricordo che Jack ebbe a dirmi che alle cupe funere e misteriose immagini della Grecia arcaica, rozza e barbarica o, come gli diceva, gotica, egli preferiva le liete, armoniche e chiare immagini della Grecia ellenistica, giovane e spiritosa, moderna, che egli definiva una Grecia francese, una Grecia del XVIII secolo. E avendogli domandato quale fosse, a suo giudizio, la Grecia americana, mi rispose ridendo, la Grecia di Senofonte. E ridendosi mise a disegnare un singolare e armuto ritratto di Senofonte, gentiluomo della Virginia, che era una larvata satira nel gusto del dottor Johnson di certi ellenisti della scuola di Boston. Jack aveva per gli ellenisti di Boston un disprezzo indulgente e malizioso. Una mattina lo trovai seduto sotto un albero con un libro sulle ginocchia, presso una batteria pesante di fronte a Cassino. Erano i tristi giorni della battaglia di Cassino. Pioveva, e da due settimane non faceva che piovere. Colonne di camion carichi di soldati americani, cuciti in lenzuoli bianchi di grossa tela di lino, scendevano verso i piccoli cimiteri militari disseminati lungo la via Appia e la via Casilina. Per riparare dalla pioggia, le pagine del suo libro era una crestomanzia settecentesca della poesia greca, rilegata in cuoio dolce dai fregi dorati, di cui il buon Gaspare Casella, il famoso libraio antiquario napoletano, amico di Anatole France, gli aveva fatto dono, Jack sedeva curvo in avanti, coprendo il prezioso libro con i lembi dell'impermeabile. Ricordo che mi disse, ridendo, che Simonide a Boston non era considerato un grande poeta. Il suo poeta americano preferito era Edgar Allan Poe, ma talvolta quando aveva bevuto un whisky più del solito, gli accadeva di confondere i versi di Orazio con quelli di Poe, o gli accadeva di confondere la foglia parlante di Madame de Sévigny con un animale parlante di La Fontaine. Non era un animale, gli dicevo, era una foglia, una foglia d'albero.